Giusto? Corretto? Scusa, questo per voler... Però non è un modo molto... Non è un modo molto magico, giusto? La cosa bella è che con quest'anello Se io prendo questa cosa La prendo da qua E prendo l'anello La prendo da qua Però adesso quest'anello È entrato così Però come è entrato può anche uscire Apri la mano Guarda, perché tante persone pensano Che probabilmente non metta veramente l'anello all'interno della corda Adesso l'anello è veramente all'interno della corda Giusto? Ok? No, no, è veramente Controlla Sentilo Ok? Aspettiamo Secondo te quanto tempo impiego io Attirare fuori quest'anello Da questa corda Senza rompere l'anello Senza fare nulla Un po' Ok Proviamo Io prendo l'anello Lo metto in questa mano Soffia Ops, perdona Sei rimasto Scusa Ebbia Adesso Anzi, adesso sai cosa faccio? Metterò l'anello all'interno della corda E lo facciamo sulla tua mano Guarda Ok? Apri la mano Io metto l'anello qua Chiudi la mano E stringi Non stringerlo troppo forte Devi sentire la corda E devi sentire l'anello all'interno della mano E senti come piano piano la corda passa attraverso l'anello Apri la mano Hai sentito che passa l'attraverso, giusto? Guarda questo Perché questo è il colpo finale L'ultimo pezzo L'anello è veramente all'interno della corda, giusto? È veramente all'interno della corda Ok? Sul 6 Potete controllare Adesso Jack Tu prenderai una parte della corda Tu Agatha prenderai l'altra parte Ok? Jack Tu Agatha prendi questa Jack prendi questo Incrociate E al 3 Tirate Tu verso di te Tu verso di te Ok? 1 2 Tirate Grazie a tutti Grazie a tutti